Salve ragazzi bentornati in un nuovo video, oggi siamo in un video molto particolare perché ragazzi GTA V è uscito gratis sull'Epic Game Store e quindi vi farò un breve tutorial su come andare a comprare, comunque comprare relativamente è gratis, 0€, fine, no scam e vi farò un breve tutorial su come andarlo a prendere, a riscattare, naturalmente vi ripeto di lasciare un like, questo evento è possibile farlo da oggi 14 maggio alle 17 fino al 17 del giorno 21 maggio quindi affrettatevi, prendete la vostra copia di GTA V Premium Edition, quindi avrà anche delle cose in più nell'online, naturalmente GTA V vi verrà fornito con storia online eccetera eccetera che potete usare anche per scaricare FFM, quindi una volta entrate nel vostro launcher di Epic Games che vi lascio il link in descrizione per andarlo a scaricare, è facilissimo basta che entrate nella pagina di Epic Games, in alto a destra scrivete Download Launcher, facilissimo una volta scaricato il nostro launcher ci basta andare nella sezione del negozio, andare a prendere Premium Edition di GTA V, andarlo a premere naturalmente vi dirà in questo gioco sono presenti i contenuti eccetera eccetera, vendati in continua e qua vi dirà, vi darà delle note che vi dice che naturalmente è una Premium Edition quindi vi darà delle cose in più e naturalmente qui ci sarà il tasto Ottieni invece di 30€ dovrete gratis, vi ripeto, fino al 21 di maggio quindi andatelo ad ottenere come sto per fare io ok ragazzi siamo dentro l'ordine, naturalmente qua vi dice che l'importo è 0€ perché è gratuito e comunque vi ricordo che sì, la promozione finisce il 21€ però ragazzi dopo il 21€ il gioco sarà vostro per sempre quindi quando lo prendete lo avrete per sempre anche dopo il 21€ sarà come se avesse comprato il gioco per sempre comunque per sempre, per sempre, per sempre effettuiamo l'ordine, accettate ovviamente e grazie ti abbiamo inviato una ricevuta via email facilissimo, riceviamo anche un coupon a conto pare, grande e GTA è pronto per l'installazione installa ora, o visualizzate nella libreria, la date a vedere e da lì potete installare la vostra copia di GTA V Premium Edition naturalmente vi ricordo ragazzi che è possibile giocarci online, è possibile usarci FEDM quindi se volete scaricare FEDM andate sul sito di FEDM se vi serve un tutorial su come scaricare FEDM ve lo chiedete nei commenti e io ve lo porterò magari se non lo sapete fare io come al solito vi ringrazio e noi ci vediamo in un prossimo tutorial e video ciao ragazzi ciao ciao ciao